Il tema di questa puntata della via del successo riguarda molto da vicino noi donne ed infatti è il successo della donna. Era doleoso che a un certo punto gli autori ci arrivassero. La parola celebrità infatti è femmina, anche se il più delle volte sono gli uomini a goderne. Però ciò non toglie che molte donne diventino celebri. Anzi qualche volta la celebrità dell'uomo non è altro che un riverbero di quella della donna. Ci sono moltissimi esempi che vi potrei citare senza ricorrere alle enciclopedie. Per ovviare a ogni possibile dimenticanza della storia di domani, quando qualcuno avrà in mente di erigere un monumento o un busto a uno degli uomini dei nostri giorni, io vorrei dare un consiglio, quello di erigere il monumento matrimoniale a due piazze che ricordi e valorizzi fino a qual punto la donna ha contribuito a rendere celebre il marito. Molto spesso spostiamo e noi tutti lo vediamo come avvenga anche la vita coniugale. Una cosa che è piuttosto paradossale è la moglie che il marito c'è la realtà e pertanto sommiglia dei congiugi così si volesse fare onore naturale che si ponga un monumento matrimoniale che li unisca nella gloria con equità. Balletto in quel sacco è un monumento matrimoniale che li unisca nella gloria con equità. Balletto in quel sacco è un monumento matrimoniale che li unisca nella gloria con equità. Balletto in quel sacco è un monumento matrimoniale che li unisca nella gloria con equità. Balletto in quel sacco è un monumento matrimoniale che li unisca nella gloria con equità. Oggigiorno tutti sanno che si sposa la Sagan con un tipo anziano e me, cuaresimale quindi avranno il monumento matrimoniale che li unisca nella gloria con equità molti uomini si sa, debbon tutto alla metà anche quando si hanno glorie nazionali e perciò di monumenti matrimoniali a migliaia ne faremo, a migliaia rideremo strade piacche e riempiremo ogni città